Ciao ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di... Il film di cui parliamo oggi è La Casa delle Bambole, o in originale Incident in Agostland. Questo film mi è stato consigliato, ne ho sentito parlare davvero in modo positivo, poi, andandomi un po' a informare con altri video e altre recensioni, ne ho sentito parlare anche come trappola. E quindi ero davvero, davvero curioso di scoprire che tipo di trappola mi sarei trovato davanti. E dopo averlo visto, più di una volta anche, vi posso confermare che sì, questa è una trappola bella e buona per lo spettatore, solo nel modo più positivo possibile. Prima di iniziare vi informo che ovviamente su questo canale sono già pubblici i primi due video di questo format, il primo su La Vuela, Legami di Sangue, un horror che vi straconsiglio, il secondo su Slacks, un horror con protagonista un jeans assassino, e non dico altro, trovate comunque i due video qui, nelle schede, nella playlist dell'Horror Month, e magari, come sempre, se volete supportare questo progetto, comunque il mio canale in generale, lasciate un like, iscrivetevi se vi trovate qui per la primissima volta, e seguitemi sugli altri social, i link sono tutti nella descrizione. Magari cliccate quella bella freccettina, condividete questo video con chi adora il genere horror. In seguito alla morte della zia, Pauline e le due figlie ereditano una casa. La prima sera, però, degli assassini penetrano nella residenza, e Pauline è costretta a combattere per salvare le figlie. 16 anni dopo quella notte, la famiglia si riunisce nella casa da cui Pauline e Vera, una delle due figlie, non sono mai andate via. E da lì, strani eventi iniziano a susseguirsi. Ripeto, questo è un film trappola per lo spettatore, per chi guarda il film. Anche questo inizia in un modo che ti fa pensare, ma che tipo di film sto guardando? Perché sembra davvero uno di quei film standard, uno di quegli horror di seconda fascia, di serie B. Non c'è una grandissima caratterizzazione dei personaggi, sembra davvero che siano pronti lì solo per fare quelle solite cagate che fanno i personaggi degli horror. E così è, infatti, nei primi minuti. Ci sono jumpscare posizionati nei punti esatti in cui negli horror ti fanno capire che ci sarà un jumpscare da lì a poco, infatti non sono per nulla funzionali i jumpscare iniziali. Poi i jumpscare naturalmente non scompaiono, ma sono posizionati nel punto giusto, quindi funzionano e soprattutto non sono quei jumpscare posizionati uno dopo l'altro che ti fanno annoiare e sono assolutamente distruttori per un film horror per quanto mi riguarda. Ma capisci probabilmente che quello che stai guardando non è che sia chissà che grande film horror. E infatti io vi consiglio di non stoppare la visione dopo i primi minuti, perché probabilmente potrebbe arrivare questo pensiero, ma continuate, non ve ne pentirete. Anche qui c'è un plot twist, ma al contrario di molti film, arriva proprio a metà e non alla fine, perché in questo caso c'è bisogno effettivamente di un terzo atto diverso ancora una volta, quindi vi sentirete un po' presi per il culo dalla casa delle bambole, ma è parte del gioco, infatti mi è piaciuto tantissimo. Ho visto il film più di una volta, l'ho visto tre volte in totale e devo ammettere che comunque non sono arrivato alla rivelazione prima dello svelamento effettivo del plot twist e questo è naturalmente un pregio e sono super contento, visto che mi è piaciuto scoprirlo proprio nel momento esatto in cui bisognava scoprirlo. Ma dal primo rewatch, quindi dalla seconda visione, posso dirvi che sì, probabilmente se state ben attenti, questo è stato fatto apposta perché ci sono proprio gli indizi posizionati sullo sfondo, in quel che dicono i personaggi, si potrebbe comunque anticipare il plot twist. Ma vi sconsiglio di farlo perché bisogna assaporare ogni singolo secondo della rivelazione, tanto per sentirvi ancora più presi in giro dal film. Pur essendo tanto giovani, le attrici protagoniste, ovviamente non sto parlando della madre di Pauline, sono davvero molto molto brave. Tra l'altro la protagonista da ragazzina è interpretata dalla protagonista, scusate la ripetizione, di Koda, un film che mi è piaciuto tantissimo e che ha vinto l'Oscar come miglior film l'anno scorso. Quest'anno, non l'anno scorso, il film è dell'anno scorso. Il cambio di tono si percepisce tutto, dalla fotografia alla regia, ma anche a quello che vediamo. C'è proprio uno stop della prima parte del film alla seconda. E per quanto mi riguarda funziona tutto. L'horror c'è e funziona in modi diversi tra la prima parte e la seconda parte. Anche le minacce del film, non dico altro, funzionano per tutta la durata. Mi hanno ricordato, soprattutto gli assassini a inizio film, mi hanno ricordato molto altri villain, altri assassini di altri film horror. Per esempio, ho avuto in mente per molto tempo Bubba di... di non aprite quella porta. Tra l'altro su questo canale ho ricensito il nuovo Non aprite quella porta. E davvero, non apritela, però il video aprito, è qui nelle schede. E per chi ha visto il film, quelle due lunghe, lunghe scene, non dico altro per non rovinare la visione, danno una sorta di pace interiore, anche se allo stesso tempo, se ci si ragiona un po', soprattutto dopo il plot twist, è tutto assolutamente al contrario. Anche nella seconda parte del film, dove ci allontaniamo un po' dall'horror di serie B, di fascia secondaria, ci sono alcune forzature che comunque non mi sono piaciute tantissimo. Poi magari ne parliamo nella piccola parte spoiler, perché aggiungerò una parte spoiler. E in fin dei conti il film finisce in uno dei due possibili modi. O doveva finire bene, o doveva finire male. Cioè, non è che ci fossero così tante vie da poter prendere. Non dico ovviamente come finisce, non dico soprattutto perché finisce in un certo modo. Fatto sta che vi consiglio di vederlo, tanto lo trovate su Prime Video nella categoria Midnight Factory, che ovviamente vi consiglio di acquistare, perché ci sono sia tanti horror decenti, molti horror decenti, ma allo stesso tempo tanti horror meh, per esempio Slacks, quello là dei jeans, o per esempio Zombie Ivers, il film di cui parleremo la prossima settimana su questo canale, con il format di Horror Month. E se per Slacks gli assassini erano dei jeans, qui sono dei castori zombie. E semplicemente aspettiamo la prossima settimana per parlarne insieme. Intanto magari guardatelo, recuperatelo, per vedervi anche la parte spoiler del video prossimo. Ma per adesso vi consiglio vivamente di vedere La Casa delle Bambole, perché sì, quello è un bello horror. Perché se adesso non avete visto il film vi consiglio di lasciare questa parte del video, perché gli spoiler inizieranno tra tre, due, uno. La parte spoiler sarà davvero corta, penso, non ho moltissimo da dire, voglio solo concentrarmi sul plot twist del film, infatti in poche parole una piccola spiegazione per chi è rimasto comunque anche senza aver visto il film. Scopriamo a metà del film che quel che abbiamo visto per la maggior durata della prima parte, ovvero Beth, che vive tranquilla la vita da scrittrice di horror, super famosa, ma in quella vecchia casa ci sono ancora la madre, Pauline, e Vera, che è impazzita, è tutta finzione, è tutto nella mente di Beth, che in realtà si trova ancora in quella casa, assieme alla sorella, solamente un giorno dopo il fattaccio successo quella notte. E scopriamo anche che in realtà Pauline, la madre, è morta, non è riuscita a sopravvivere in quello scontro con quella stregaccia, e le due ragazze vengono usate come bambole umane. Anche se non è effettivamente capito per quale motivo facciano così, ma sono pazzi, quindi vabbè, possiamo tralasciare questo dettaglio. Ho apprezzato davvero tanto il fatto che comunque durante le scene 16 anni dopo, tra virgolette, perché appunto non sono 16 anni dopo, è solo nella mente di Beth, che è voluta scappare dalla realtà, ho apprezzato il fatto che ci siano dietro molti indizi, anche in quel che dicono i personaggi, per esempio Pauline cerca in qualche modo di svegliare la figlia da questo incubo sogno, perché in realtà l'incubo è nella realtà. Pauline, che naturalmente è frutto dell'immaginazione di Beth, perché essendo morta non è realmente lì, è solo nella sua testa, quindi è lei che cerca di salvarsi, è lei che cerca di svegliarsi da sola, in pratica. Non ho apprezzato solamente che viene rivelato che in realtà il marito e il figlio erano dei quadri in cantina, o in cantina in soffitta, dove erano le ragazze, quello è un po' troppo esagerato per quanto mi riguarda, però vabbè, non è un grandissimo problema. L'altra seconda scena lunga è quella in cui di nuovo Beth ritorna in questo mondo in un momento di tensione alta, dopo aver capito che comunque non è il mondo reale, e incontra Lovecraft, che naturalmente è impossibile incontrare in quel periodo, visto che è morto da anni ed anni. E tutta la scena in cui Beth adulta, sempre tra virgolette, capisce che deve ritornare a salvare la sorella che in quel momento si trova davvero in pericolo, l'ho apprezzata tantissimo. Le forzature di cui vi parlavo prima, anche nella parte in cui si respira un horror vero e non quello di seconda fascia, riguardano i ritrovamenti, ovvero com'è possibile che gli assassini siano riusciti a ritrovare le ragazze dopo che queste hanno percorso un bosco senza sapere nemmeno loro dove stessero andando? E loro le trovano subito, uccidono i poliziotti, vabbè. E stessa cosa si può riscontrare alla fine, anche se qui una risposta si può trovare, il poliziotto che le trova alla fine, che arriva appunto in casa e uccide i due assassini. Tra l'altro forse un piccolo difettuccio, il difettuccio ce l'ho io in questo caso, mi sono un po' messo a sorridere, a ridere quando Beth sul finale inizia a mangiucchiare la strega, l'assassina, vabbè, la strega, la chiamo strega ma non è una strega. Magari sono solo problemi miei ma mi è sembrato un po' sul cartunesco, diciamo così. Il film finisce in realtà quasi bene ma non è che sia così tanto positivo come finale, visto che è morta la madre e loro sono comunque segnate a vita da questo evento. In ogni caso però probabilmente Beth diventerà davvero una scrittrice, non dico famosissima come nel suo immaginario ma almeno un po' conosciuta, visto che il fantasma della madre, quindi in realtà solo la sua mente, perché nonostante tutto questo è un film realistico, non ci sono eventi paranormali, il fantasma della madre le consiglia di continuare a scrivere e potrebbe tranquillamente trascrivere la storia come nel suo sogno, Incidentina Ghostland. Ed essendo effettivamente protagonista di questo evento sicuramente se ne parlerà e il libro potrebbe venire conosciuto da qualcuno. Mi sono fatto un film mentale seguito della Casa delle Bambole. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto se vi è piaciuto il film, se siete arrivati a questo punto del video, vuol dire che comunque o l'avete visto, ripeto, vi siete voluti fare... avete voluto sentire questi spoiler senza problemi. Vi ricordo che la prossima settimana, il prossimo lunedì, parleremo di Zombie Ivers, il film horror con i castori zombie. In descrizione trovate tutti i link dei miei social e il link di Pampling per avere delle t-shirt, delle calze, delle tazze, dei poster, tutto a tema nerd e non solo, codice ilpensiero4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis. Se volete supportarmi lasciate semplicemente un like, iscrivetevi o condividete questo video, oppure fate tutto. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!